Signore e signori, Carlo Delle Piane, il titolo del libro di questa sera, ma è anche qui invece. Carlo Delle Piane ci ha fatto la graditissima sorpresa di venirci a trovare per parlare di questa biografia. Non facile perché lei ha cominciato subito nel dopoguerra, bambino praticamente. Sì, si è venuto a documentare, soprattutto nella mia carriera, lungo più di 60 anni, un'ottima filmografia. E poi in questa biografia c'è la prefazione di Puglia Vati e la post-prefazione di Franco Battiato. Perché Franco Battiato? Perché l'abbiamo conosciuto, io e Anna amiamo molto da anni una delle sue bellissime canzoni, La Cura. E nel DVD l'abbiamo poi registrata, incisa e cantiamo appunto Ianna, La Cura. Che libro contiene anche un DVD con dei materiali speciali, appunto le interniste. A Puglia, a Franco Battiato, sì. E di tutti i film che ha fatto, il 300, qual è? Io ho scoperto, leggendo la biografia, di aver fatto più figli quanto pensassi. E qual è quello che è più legato? Ma sicuramente un incontro con Puglia Vati, un lungo sovalizio, una gira scolastica, è legato a Natale, di nuovo a Venezia, dove pure ho vinto la Coppa Volpi, qual è il miglior attore protagonista. Signore e signori, Carlo Delle Piane di Massimo Consorti, la biografia pubblicata da Teste Piene.